I casi sotto osservazione di epatite sconosciuta al di sotto dei 16 anni in Lombardia sono 9, più 2 in corso di valutazione. Due sono stati segnalati alla TS in Subria, che racchiude le province di Como e Varese. I dati sono stati forniti da Letizia Moratti, vicepresidente della regione Lombardia, che ha risposto ad un'interrogazione in consiglio. Nel Comasco un caso sospetto era stato segnalato nei giorni scorsi all'ospedale di Erba. La SST Lariana non ha pazienti con sintomi riconducibili ad epatite acuta non classificabile, ma l'attenzione è alta, così come in tutti i presidi della regione, dove è in corso un'attenta sorveglianza epidemiologica, come ha riferito Moratti, sottolineando che la rete dei laboratori ha definito un protocollo per l'effettuazione degli accertamenti, con l'obiettivo appunto di uniformare i comportamenti e ottimizzare la rete della sorveglianza. Conferma l'attenzione, ma vuole rassicurare le famiglie, il primario della pediatria dell'azienda sociosanitaria territoriale lariana, Angelo Selicorni. A livello nazionale, i numeri di questi mesi sono sovrapponibili a quelli degli anni precedenti, spiega una percentuale di epatite acute non classificabili in ambito pediatrico è sempre esistita. L'allerta è partita dall'Inghilterra, ma non sappiamo se anche loro hanno fatto questo lavoro di comparazione con il passato. Ad ogni modo, la regione ha chiesto di porre attenzione al problema, ha aggiunto, per cui studiamo bene il fenomeno, abbiamo delle linee guida da seguire di fronte ad un caso sospetto e procediamo in questo modo, senza creare allarme. I sintomi da tenere monitorati, spiega ancora il primario, sono presenza di febbre o febbricola, dolore addominale, nausea, vomito, colorito giallognolo, condizioni che vanno riferite al pediatra, che se lo riterrà invierà poi il paziente all'ospedale per accertamenti. Una volta svolti gli esami del sangue, va monitorato con attenzione il valore degli enzimi epatici. La Società Italiana di Pediatria ha definito un protocollo di analisi di laboratorio e accertamenti per valutare i casi sospetti.